Sì, allora effettivamente qui la teologia è un cammino, un cammino di comprensione di un mistero sempre più grande di noi, un cammino che se uno fa bene il teologo è sicuramente animato dallo Spirito Santo e non bisogna scandalizzarsi se ci sono prospettive differenti. Quindi anche per la teologia vale quello che vale per tanti saperi, cioè cos'è il fondamento, cos'è la cosa importante, non è sicuramente quello che l'impianto teologico di Don Franco piuttosto che quello di Rahner, piuttosto che quello di Shenoum, l'importante è comprendere la parola, cioè la parola fatta carne, appunto fare quell'operazione che Gesù dice nei discorsi da Dio, nel Vangelo di Giovanni, vi dono lo Spirito Santo e lui vi aiuterà a far memoria, che non significa semplicemente a ricordare perché passano gli anni e noi diventiamo un po' duri di memoria, ma far memoria vuol dire tornare a Gesù, comprendere il significato salvifico di Gesù per il mio oggi, per il nostro oggi, per l'oggi della Chiesa. Per cui quegli schemi di pensiero che aiutano a fare questo traghettamento duplice, da qui a Gesù e da Gesù alla Chiesa oggi, ecco quegli schemi di pensiero che danno luce, bene, li teniamo, li coltiviamo, li approfondiamo per quanto è possibile. Altri schemi di pensiero che o in un viaggio da qui a Gesù o da Gesù alla Chiesa d'oggi prospettano dei punti deboli tali che uno dice ma non funziona, non funziona a questo punto, non funziona a quest'altro punto, allora accantono. Ecco, questo come metodologia, cioè la teologia serve a dire una parola, che è Cristo ultimamente, che salva oggi. Per cui può darsi che una teologia, come tante cose nella vita, sia superata, nel senso che, va bene, i padri della Chiesa hanno tentato di fare questo, San Paolo ha tentato di fare questo, ma se quelle categorie non parlano più all'uomo d'oggi, bisogna avere il coraggio di cambiare quelle categorie rispettando però Gesù, come dire, fedeli a Gesù, perché è Gesù che salva, non lo schema teologico. Ci siamo, questo come metodo detto proprio brutalmente. Sulla chienosi ci sono delle riflessioni, anche delle tesi di dottorato, così, che fanno affiorare quegli autori che hanno impostato la loro cristologia sulla chienosi. Ce ne sono diversi, ma non voglio fare... Quello che secondo me ha una sua comprensibilità, anche se è in salita, è Fonbalt. Fonbalt ha impostato molto della sua cristologia sul concetto di chienosi, a tal punto che lui giunge a dire ecco, Gesù Cristo è sceso agli inferi, noi abbiamo nel credo questa che poi è preso dalla seconda lettera di Pietro e lui dice non solo nello Sheol, cioè non solo nel regno dei morti, ma proprio nell'inferno è sceso Gesù Cristo per dare la possibilità ultima di redenzione anche a questi, per dire questa discesa di Gesù Fonbaltasar fin dove la fa arrivare. Sì, la teologia comunque è in evoluzione, per cui a me sembra che questo concetto di chienosi aiuti a comprendere soprattutto due cose. primo, l'umano del figlio di Dio, l'umano assunto dal figlio di Dio diventa criterio, il criterio ultimo della nostra vita. perché? Perché è l'umano del figlio. Se ci sono delle pagine bellissime qui, se volete approfondire, nella Cristologia di Giovanni Moioli, professore del nostro seminario, ecco, cioè lui insiste molto su questo cristocentrismo, cioè qual è il criterio ultimo del pensare Dio, qual è il criterio ultimo del diventare memoria originale, creativa, è Cristo. Ma perché è Cristo? Perché è l'umano del figlio di Dio. Quindi lui tenta di rispondere all'obiezione di Lessing, l'obiezione degli Illuministi che dice una verità concreta, storica, non può essere una verità universale. Cioè un uomo non può diventare il criterio della vita di tutti. C'è un ampio fossato, diceva Lessing, tra le verità storiche e le verità universali. Gesù di Nazareth non può essere, a priori, per l'illuminista Lessing, non può essere il criterio di vita di tutti. Moioli invece risponde dicendo sì, la rivelazione ci dice che lui è l'uomo. Sintomatica quella frase di Ponzio Pilato, ecce uomo, certo. È il Giovanni che fa dell'ironia sul sarcasmo di Ponzio Pilato. Voi mi avete presentato questo qui, guardatelo cos'è, ormai il flagellato, incoronato. Ecco l'uomo. Tu stai dicendo la più sacrosanta delle verità. Davvero è l'uomo. È il criterio ultimo della vita di tutti perché la sua umanità è quella assunta dal figlio di Dio. Non si può essere persone umane, autenticamente umane in questo mondo, se non facendo memoria di lui, ma memoria creativa, memoria originale perché tu sei tu, non sei lui. E a lui piace che tu rimanga tu, ma tu dentro di lui, o lui dentro di te. Io rimango in voi. Bene, questa è la prima idea della Kenosico. Seconda idea fondamentale, ma su questo la teologia sta piano piano procedendo. È quello che ho tentato di dirvi. Quindi se quell'uomo, Gesù di Nazareth, è stato assunto dal verbo, significa che l'esperienza umana di Gesù di Nazareth, in tutti i suoi aspetti, è entrata in Dio. Cioè, in Dio, Trinità, c'è l'umano. Capite com'è bella questa cosa qui, com'è feconda questa cosa qui, da cui il mio, appunto, il mio ragionare, persino sulla sofferenza. Se Gesù è risorto ed è alla destra del Padre, che significa, è in Dio, significa che ha portato in Dio quell'esperienza di sofferenza per amore che è redenzione. Che è redenzione per noi tutte le volte che soffriamo come Lui, con i suoi stessi sentimenti. Ma questo, capite dove sto andando, no? Questo significa che Dio diviene. Ecco, capite che qui tutti si blocciano a Dio diviene e se Dio assume la storia, se non altro la storia di Gesù, non dico la mia, povero figlio, ma la storia di Gesù, almeno quella, se la storia di Gesù ha un valore in Dio, vuol dire che Dio diviene. Eh, vuol dire tanto. Lo dico in un altro modo, e così rispondo sempre all'interrogativo sulle diverse impostazioni teologiche. Cosa ha fatto Tommaso d'Aquino? Grande! Ha fatto quello che la Chiesa deve fare sempre. Cioè, è partito da alcune categorie filosofiche, culturali, avevano scoperto in quel periodo dei filosofi arabi, Avicen, Averroè. Lui li prende, attraverso questi giunge ad Aristotele e attraverso le categorie aristoteliche costruisce il suo castello, il suo impianto teologico, il pensiero, la summa, attraverso delle categorie che la gente in quel momento comprendeva, almeno nelle università. Tommaso era un professore, no? Parigi, no? Prende quelle categorie che la gente comprendeva e dice Gesù. Cioè, dice il mistero salvifico di Cristo, che è la teologia, no? Lo dice con quelle categorie. Ha fatto un impianto. E per secoli, fino ai nostri giorni, quell'impianto è funzionato a tal punto che ci sono documenti della Chiesa che dicono che bisogna procedere secondo la neoscolastica. cioè, il pensiero di Tommaso che poi ha vinto nelle scuole del Medioevo la scolastica, riveduto e corretto, vale ancora oggi. Sì e no. Ma non per criticare Tommaso in quanto tale, grande teologo, ma mi rendo conto di due cose. Primo, che certe categorie di Tommaso oggi non sono più capite da nessuno. Ma questo è un problema. Cioè, se noi insegniamo una teologia che non è capita da nessuno, uno dice, ferma un attimo, non stai facendo il tuo lavoro. Devi trovare altre categorie. E secondo, è proprio vero che un impianto come quello aristotelico di Aristotele che Tommaso ha messo in gioco nella riflessione teologica. Un impianto fondato sul rapporto causa-effetto. Per cui chi è Dio? È il motore immobile. Cioè, motore muove tutto, ma immobile, perché nessuno muove lui. È Dio. È la causa incausata. Ok. Serve a dire tante cose questo, spiegare tante cose, e Tommaso è stato grandioso. Ma dov'è l'agape? Capite che non è una domanda secondaria, eh? Perché noi dalla rivelazione abbiamo Dio è agape. E in un impianto di tipo aristotelico dov'è l'agape? Perché la causa non ha bisogno di essere mossa da amore. La causa causa, ma non si dice per amore. E invece tutta la rivelazione che ha in Gesù il suo compimento dice l'ha fatto proprio per amore, anzi lui è amore. Allora come faccio a dire che Dio è amore se ho un impianto che non mi basta, che non mette in gioco proprio l'amore. Capite? Ecco, questo non vuol dire buttiamo a mare tutto Sant'Ommaso, no fermi un attimo, prima di buttare a mare sempre. Però vuol dire che c'è spazio per fare teologia. Teologia sana nella Chiesa per il bene della gente, guidati dal Magistero. Però, però, eh? Ecco, quindi il concetto di, cioè questa categoria di chienosi è strettamente legata alla GAP e quindi si può costruire una cristologia, addirittura alcuni autori fanno una pneumatologia, cioè lo spirito ha un processo di chienosi nella storia. Quindi, c'è possibilità di lavorare, di riflettere, certo, con quell'umiltà di dire io propongo queste cose, vedo se la Chiesa le ritiene opportune per annunciare l'unico Gesù Cristo, non per altro, e se questo serve bene entra nella tradizione, se non serve si brucia, un bel libro bruciato fa calore. grazie mille, grazie mille,